una tragica notizia ha sconvolto il mondo della danza una ballerina ha trovato la morte dopo aver mangiato un biscotto era una promessa del ballo ma si era trasferita in una metropoli per continuare a seguire e a coltivare il suo grande sogno quello di esibirsi nei più grandi teatri della città e magari del mondo un sogno che stava per realizzare la 25enne or la baxendale originaria dell'ancascire inghilterra se n'era andata a new york per realizzare il suo sogno come riporta il the mirror la ragazza sarebbe deceduta a causa di una relazione allergica dopo aver mangiato un biscotto che conteneva noccioline e arachidi cibi ai quali la ballerina era fortemente intollerante lo shock anafilattico avrebbe fatto il suo corso perché orla non avrebbe avuto con sé il suo epipen ovvero la puntura di emergenza che chi è fortemente allergico a vari cibi deve sempre portare con sé se avesse avuto il medicinale forse ora starebbe raccontando solo un brutto episodio della sua vita la 25enne era sempre molto prudente ma stavolta non aveva letto l'etichetta dei biscotti perché era una marca che comprava sempre e non le era capitato nulla secondo il mirror si ritiene che la ricetta dei dolcetti sia stata cambiata di recente e che quindi i produttori abbiano aggiunto arachidi e frutta in guscio nella preparazione nel corso delle indagini sarebbe emerso che il presidente e adi del supermercato stew leonard dove la ragazza ha acquistato i biscotti stew leonard jr abbia affermato che il produttore avesse cambiato gli ingredienti inserendo arachidi e non abbia informato il responsabile della sicurezza